Bene, fratelli e sorelle, è da tanto tempo che il Signore mi chiede di mostrare questi disegni, non perché vi devo convincere di qualcosa, ma per dimostrare che comunque il Signore vive in mezzo a noi e Lui si mostra, si mostra magari tramite alcune persone, non so, ecco, io non so dire, però mi ha detto di testimoniare, di dire, sono dei disegni che io ho fatto in seguito a delle visioni, dopo che Gesù si è mostrato, e per sua obbedienza, per obbedienza, io comunque devo riportare tutto ciò che vedo, che mi viene detto, affinché possa essere un giorno e anche adesso testimone di Dio, dell'amore di Dio per tutti noi. La notte del mio compleanno del 2014, il Signore si mostrò per la prima volta a braccia aperte e mi disse che stava aspettando da 50 anni il mio sì, il mio sì pieno, che significa? Il Signore vuole il nostro sì pieno, sì senza dire sì ma, oppure sì ma perché, ecco, affidarci al Signore. E quindi per dirmi che mi avrebbe mandata a dire che Gesù è misericordioso e ci attende tutti a braccia aperte. E sì, è da tanto tempo che me lo chiede il Signore di fare questa testimonianza, ma sono gelosa un po' delle mie cose, boh, ho sempre un po' di timore, comunque sono qua. La seconda volta invece la vidi, Gesù quando fece un viaggio a Gerusalemme, vedi il Signore a Cafarma nella sinagoga, era con i piedi scalzi e il capo coperto e pregava. In quel momento quando vedi il Signore così prostrato nel Tempio e nella sinagoga, ho compreso di quanto sia importante un luogo di preghiera e quindi nel nostro caso la Santa Messa. Ecco, nella Santa Messa, in una visione, Gesù mi fece vedere, come potete vedere, tanti bambini angeli che diventano angeli, sono i bambini mai nati, che vivono in uno stato di attesa. Ecco, stiamo parlando dei bambini abortiti volontariamente, no? Uccisi o consacrati al demonio nelle sette, insomma sapete queste cose? Queste cose? Allora con la nostra preghiera, offerte nel calice di Gesù, in qualche modo vengono pattezzati, avviene loro la cancellazione del peccato originale, perché sono anime innocente, puri, loro quando muoiono non vanno nel purgatorio, all'inferno, vivono in uno stato di attesa, ecco, di attesa di godere del volto di Dio. E questo è scritto nel Vangelo, lo dice Giovanni, che grazie al nostro assacramento del battesimo, noi siamo figli di Dio, è come se fosse un pass per andare in paradiso e per percorrere un cammino di santità. E per chi invece non conosce il Signore, non parlo solo dei bambini mai nati, ma anche delle persone che vivono nel mondo, anche per loro noi dobbiamo pregare, no? Perché durante la Santa Messa, se voi ascoltate bene il sacerdote, dice preghiamo per tutti i defunti, non dice i defunti cristiani, dice i defunti, le persone morte, del purgatorio, ecco. E quindi sarebbe bello, come dice la Madonna, che si offrissero anche tutte le anime dei bambini non nati, mai nati. Ricordare questi figli, che comunque anche loro sono in attesa di godere della visione beatifica, del volto di Dio. Questo invece, sempre durante la Santa Messa, il Signore mi fece vedere che festa, ci sono tanti angeli che pregano insieme a noi, e esultano la gloria del Signore, e poi c'è la Madonna, sempre in ginocchio, e gli arcangeli, che si pongono ai piedi dell'altare. E l'arcangelo Gabriele è quello che si pone sempre un po' più avanti. Ecco. E voi pensate che io vedo ogni giorno queste cose, quando vado a Messa? No, no, no. Ogni giorno no. Questo invece è un disegno che ho fatto, e ho fatto anche testimonianza, cosa avviene prima della Santa Messa. Prima della Santa Messa è veramente festa nei Cieli, gli angeli che cantano, che si chiamano l'uno con l'altro. E' qualcosa di meraviglioso. Ecco, pochè c'è già questa testimonianza, io vi ricordo che è molto importante andare in chiesa, almeno prima, magari per recitare il rosario lì, comunque andare prima, e cercare di non disturbare il sacerdote prima della Santa Messa, perché comunque ha bisogno di raccogliersi, per celebrare questo miracolo, perché il vero miracolo avviene nella Santa Messa, fratelli e sorelle. Questo sempre durante la Santa Messa, una volta vidi il calice che sgorgava sangue di là, il sangue di Gesù. Ecco, era l'11 aprile del 2018, è chiaro che avevo preso alcuni appunti, e niente. Questa invece, è sempre durante la Santa Messa, Gesù mi fece vedere che quando il sacerdote alge il calice, lui è pronto per accollarsi tutti i nostri peccati, e quindi è crocifisso, è sanguina. A volte il Signore mi ha fatto vedere durante la Santa Messa quanto soffre, quanto soffre, mi diceva guardami, e vedevo Gesù flagellato, con le piaghe aperte, diceva guarda, dice come amo, no? Così devi amare anche tu, così devi amare anche tu per la mia Chiesa, devi offrirti per amore, per esempio per i peccati della carne, e della disobbedienza, eccetera, eccetera. Questo è un invito per tutti noi, offrirci a Gesù il nostro cuore, per amore della sua Chiesa, dei sacerdoti, dei peccati della carne. Bene, adesso siamo nel periodo della Quaresima, cerchiamo veramente di entrare in questo mistero divino, e cercando di distaccarci dalle cose terrene, dai peccati della carne, dalle impurità. Sempre Gesù in una delle messe, insomma, si faceva vedere così, crocifisso, sofferente, diceva guarda come amo la croce. Ecco, cosa significa? Beh, io non lo so, però credo che Gesù voleva dire guarda come amo la croce, così dovete amare anche voi la croce, no? La vostra croce, che è la mia croce, perché è Gesù che si accolla di tutte le nostre pene, di tutti i nostri peccati. Questa invece, durante la Santa Messa, era d'estate, credo, e Gesù ha detto guarda bambina mia quanto ho sofferto e soffro, soffro a mostrare il mio corpo santo ogni volta che mi spogliano prima della flagellazione, mi sono offerto e mi offro per i peccati impuri, ecco, Gesù, la sua pelle era candida, luminosa, perché durante la Santa Messa Gesù è come se vive tutta la sua passione, a cominciare dal deserto, e quando arriva poi nella città santa, sulla genella, tutto, mi ha fatto vedere questo, Gesù soffre molto per coloro che entrano a Messa, diciamo, specialmente le donne, magari vestite scollate o con abiti aderenti, insomma, lui soffre, ecco, soffre per questo, dice, io ho sofferto quando mi hanno spogliato e voi vi spogliate, no? E comunque è sempre lì pronto a perdonare e quindi questa testimonianza serve per far crescere i figli di Maria nel santo timore di Dio. Questo invece era ottobre del 2017, il Signore qui mi parlò della sua sofferenza del mercato nella Chiesa. Ha detto guardavo il cova bene, era sempre così, procede sempre, ecco, niente, Gesù è molto, quel giorno era molto arrabbiato, dice, io soffro, mi crocifiggono ogni giorno perché il Signore dice che non va bene che nella Chiesa ci sia mercato ma deve essere fatto tutto per amore di Dio. Invece qui il Signore si fece vedere sanguinante con il cuore sanguinante e mi disse di dipingere ciò che vedevo che un giorno avrei dovuto fare un dipinto ma non ho tempo arriverà un momento che lo farò boh, non sono un'artista. Il Signore mi disse sono il re dell'amore mi disse sotto devi scrivere al dipinto sono il re dell'amore per amore il mio cuore sanguina con amore mi offro ama come ti amo io che bello come ci ama Gesù poi noi pensiamo che Gesù soffre sempre invece no Gesù è il re della gioia sono il re della gioia risorto in mezzo a voi 5 ottobre del 2017 e quindi era luminoso sorrideva mi sorprese perché comunque la maggior parte delle volte il Signore è sofferente questo invece sempre durante la Santa Messa Gesù si offre per noi vive tutto il Calvario si fa crocifiggere per poi risorgere in noi con la Santa Eucaristia tutto per amore tutto avviene sempre ovunque sul letto